quando i pisellini vengono raccolti la loro freschezza comincia a diminuire ecco perché alla findus ci diamo un tempo limite e dentro poche ore dal raccolto sorgeriamo i nostri pisellini più piccoli più teneri più dolci per conservare il massimo della loro freschezza naturale garantito da findus pisellini primavera findus più freschezza più gusto